Sfida, triplice fischio dell'arbitro, non hanno mollato, mai, hanno messo in campo determinazione, voglia e alla fine la vittoria è giustamente conquistata quando fai così. Una gara dai risvolti drammatici, decisa solo nel recupero. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al parigio. Bisogna dare atto al loro coraggio, adesso possono festeggiare. Solo pochi secondi ancora di collegamento, un ringraziamento a Luca Marcheggiani come sempre a mio fianco. Un onore per me, saluto e ringrazio il pubblico da casa. Grazie 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 Grazie